Weee! Non fare il magazzino muffito! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE! DAIE! Weee! Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi mamma mia quante novità ho da dirvi nel video di oggi! Come sapete abbiamo tutti scaricato e giocato con la patch 10.30 ma quello che vediamo in game non è altro che la punta dell'iceberg di quello che è realmente stato inserito nei codici sorgenti del gioco e che ben presto vedremo proprio nei prossimi giorni! Nel video di oggi parleremo ragazzi della possibile nuova mappa della season 11! eh sì ragazzi perché è stata scoperta una serie di cose sono state scoperte una serie di cose che ci fanno ben pensare che potrebbe essere l'ultima season dove vedremo la mappa così come la conosciamo! Ma parleremo anche della nuova skin liccata per Honor 10! Quindi nuova collaborazione confermata vi farò vedere uno spezzone proprio della skin in game e per chiudere una balas badilata di leaks per tenervi ovviamente sempre aggiornati con le modifiche più importanti di Fortnite! Prima però volevo ringraziare tutti quelli che utilizzano il mio codice creator XUDERONE! Grazie di cuore ragazzi per supportarmi quando scioppazzate di prepotenza nello shop! Mi raccomando iscrivetevi in tantissimi al canale proprio adesso e soprattutto... attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live ma prima devo la domandina ragazzi ve la devo fare è una domandina che guarda non so neanche come potete rispondermi perché ci sarebbe da scrivere la spatafiala ma io te la faccio proprio secca così cosa ne pensi della patch 10.30 è la vostra opinione ragazzi a me interessa tantissimo mi raccomando sotto qua nei commenti cosa ne pensate ragazzi è tornato boschetto è tornato putrido con le prigioni e io ho visto tante cose che vedrete anche voi secondo me questa patch è non è male è tornata la mitraglietta tattica ma stiamo scherzando pompa del nonno mitraglietta tattica è come un bombardiere atomico signori secondo me è una bella patch fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto nei commenti ma quindi ciancio levande e vanno le ciance andiamo subito subito ragazzi a vedere una delle cose che sono importanti per la storyline della season 10 vi ho fatto un piccolo collage di alcuni pezzi del rocket e si ragazzi perché ci sarà un nuovo evento rocket tutti abbiamo visto che a magazzino è stata preparata una piattaforma di lancio ma forse non tutti abbiamo visto questo fatemi trovare dov'è eccolo qua il gameplay del razzo fatto è finito ragazzi questo ovviamente è sempre il magazzino centrale dove in questo momento è presente solo la struttura in metallo dobbiamo aspettarci un nuovo evento rocket per chi lo ha vissuto quello originale è stata veramente tanta tanta roba con l'evento rocket ovviamente arriva di mezzo il visitatore sappiamo perché ha seguito la mia pagina instagram xuder che è presente sarà presente una nuova skin del visitatore non credo ragazzi che si tratti di un una variante ma deve essere proprio un outfit completamente diverso da quello che conosciamo vi ho fatto vedere proprio già il gameplay quindi aspettiamoci tanta tanta roba per questo nuovo evento rocket ma andiamo avanti con il prossimo argomento ragazzi e ci sono due nuove skin incredibili vi avevo parlato a inizio video della skin per honor 10 ma prima vorrei farvi vedere questa nuova particolarissima skin ufficialmente il nome è p1000 p dovrebbe stare per pili che è il nome inglese della banana e come vedete la particolarità di questa skin oltre ad essere ovviamente una banana meccanica è che viene accompagnata con delle challenge e la cosa ancora più particolare è che se andiamo a vedere i premi delle challenge sembrano essere v bucks questo però ci fa pensare che magari la skin debba essere acquistata con i cash anche perché mi sembra un po' un po' strano che venga messa nel negozio e i premi sand e v bucks quindi le questioni sono due o i v bucks non sono i premi o altrimenti verrà dovrà acquistata i soldi e ci verranno ridati 5 4 9 3 12 14 1500 v bucks questo noi non lo sappiamo ma posso farvi vedere un velocissimo gameplay proprio della skin in game ed eccola qua ragazzi non mi piace mi fa cagare cioè nel senso non no no perché no nel senso mi sembra una una cavolata una cavolata che potevano tranquillamente evitarsi simpatica tra virgolette ma no per me no diceva la maionki ai tempi la cosa che in realtà ci interessa molto più della skin p 1000 ragazzi è quella che sto per farvi vedere in questo momento che sappiamo essere la skin chiamata da vinci arriverà con l'honor 10 se non mi confondo comunque sicuramente una skin collegata ad uno smartphone anche qua rapidissimo il gameplay in game sono proprio 10 secondi come vedete la skin a un emote personalizzata quindi si va a riprendere il discorso che vi dissi qualche settimana fa dove epic games sta cominciando a associare a delle skin un emote unica è il caso dello rubacuori il lama quello con tutto rosso di san valentino che ha avuto un aggiornamento nella miniatura in alto a sinistra si vede il logo della delle moto personalizzata che attualmente però non è ancora presente in game quindi ragazzi staremo a vedere ovviamente quando arriverà vi farò sapere tutto il prezzo e non vi preoccupate che vi terrò sempre aggiornati ma andiamo avanti con il prossimo argomento ragazzi modifiche alla mappa quello che vi avevo già detto ragazzi questa la conosciamo benissimo ci ha strabiliato ieri mattina vedere appunto il ritorno per lo meno a me ha strabiliato il ritorno di boschetto bisunto il ritorno delle prigioni e di parte del putrido pantano ma ragazzi voglio farvi vedere una cosa incredibile che è stata recuperata nei file di gioco e sono le location completamente nuove beach bluffs camp code creative iceland dirty docks holly edge lazy lake mountain meadow power plant slurpy swamp sunny shores and weeping woods ragazzi hanno inserito 3 6 12 nuove location l'inserimento di 12 nuove location se non siamo stupidi lascia presupporre che sia la modifica totale della mappa e avrebbe assolutamente senso perché se ci pensate nella season 10 abbiamo ripercorso bene o male i punti salienti di queste dieci stagioni di fortnite io sono d'accordo nel modificare completamente la mappa adesso sono d'accordo perché abbiamo rivissuto come vi dicevo le parti più belle della mega storia in durata due anni credo che sia il momento di fermarsi qua e di dare una rinfrescata totale al gioco per riprendere prepotentemente e ridare la voglia e la dinamicità che sicuramente fortnite in questo momento ha bisogno io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo alle 8 in live ciao 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 ciao